Slitta ulteriormente la data prevista per la sentenza del processo d'appello per l'omicidio del pastore di Calatabiano Salvatore Buda, ucciso il 23 gennaio del 2013. Ieri, infatti, davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catania, presieduta da Salvatore Costa, è andata in scena solo una delle tre ringhe difensive previste. A discutere la posizione di Giovanni Torrisi, ex assessore di Sant'Alfio, condannato in primo grado a 11 anni e 4 mesi, il difensore Claudio Grassi. Legittimo impedimento, invece, per i legali Gino Ioppolo, codifensore di Torrisi e Giuseppe Rapisarda, legale di Mariano Nucifora, che prenderanno la parola nella prossima udienza. Lunga la ringa difensiva di Grassi, che traccia un identikit del proprio assistito, definito persona prima di quel tragico episodio, al di sopra di ogni sospetto, incensurata e priva di frequentazioni dubbie, come evidenziato dagli stessi carabinieri in fase di indagine. Il legale poi analizza attraverso gli atti tutti i passaggi ritenuti inverosimili nel racconto dei tre testimoni cardine del processo. Proprio su questo punto insiste il difensore di fiducia sull'assoluta inattendibilità dei tre testi, i cui racconti presenterebbero, secondo Grassi, evidenti falle. Nessun omicidio sarebbe stato commesso intenzionalmente quella mattina, si sarebbe trattato solo di un drammatico incidente, per il quale Torrisi non avrebbe alcuna colpa. Il 26 febbraio si tornerà in aula per il proseguo delle discussioni della difesa.